I sette anticipi in calendario nella giornata di domani apriranno di fatto il weekend sportivo. Sarà un sabato all'insegna del divertimento per i tanti appassionati di calcio. Nel torneo di promozione incontri attesi ed interessanti per la terza giornata. Partiamo dal match tra Riccia e il Trivento, a un punteggio pieno insieme al Forlum, Torre Maggiore e Baranello. Al Poce è partita impegnativa per i padroni di casa che venderanno cara la pelle per aggiudicarsi l'intera posta in palio. Il Forlum viaggerà alla volta dell'Atletico Torre Maggiore, gara interessante considerando che entrambe le squadre hanno iniziato al meglio il loro percorso, vincendo i due precedenti incontri. Fischio d'inizio previsto alle ore 15 come la gara che vedrà di fronte il Baranello e il Busso, occasione per gli ospiti di farsi valere in trasferta, forti dal successo conquistato lo scorso fine settimana in casa contro lo Spinete. Tornerà tra le mure amiche il Termoli 2016 pronto ad ospitare il Guardia Alfiera, secondo turno lontano dal proprio impianto per la neopromossa in promozione. La polisportiva Calena con fischio d'inizio alle ore 15.30 scenderà in campo contro il Morcone, ancora secco di punti. Il comunale di Mirabello Sannitico sarà la sede di gioco della partita tra Juvenes e Rufrai Presenzano, che ha collezionato ben due pareggi negli ultimi due incontri. Ultima gara in programma nella giornata di domani, il match tra Rocca Ravindola e Lalife, mentre il quadro della terza giornata si chiuderà domenica con l'ultima partita in programma, quella tra lo Spinete e la polisportiva Fortore.